non lo so quanto abbia influito su mio padre la morte di mia madre senz'altro perché la morte mia madre mio padre che pativa di nostalgia terribile soprattutto di sua mamma e morta mia madre ha venduto tutto ed è partito dal brasile il fare è un po il nostro il nostro motivo dominante della nostra vita fare è stato anche per la pittura per me e perciò mio padre lasciava che io bambino facessi disegnavo e non studiavo magari e lui mi lasciava fare non diceva guarda l'hai studiata la lezione per domani no non ho mai detto niente di simile mi lasciava fare ma non per leggerezza ma per senso di libertà della mia libertà ho scritto romanzi ho scritto tutto ho fatto tutto malamente ma l'ho fatto e forse dipingere forse anche quello l'ho fatto malamente ma l'ho fatto ed era la parte senz'altro più più pregnante più più potente che avessi in me dipingere non potevo fare altro che quello non avrei saputo fare a non vedere terribile io mi alzavo alle 5 del mattino per lavorare perché trovo che mattino si lavorava meglio era buio non ero distratto da niente altro se non dei miei ricordi dei miei ricordi dei miei ricordi dei miei pensieri e dalle mie fantasie e allora mi sono seduto con una poltrona e mi sono addormentato avevo dormito un quarto d'ora venti minuti quando mi sono svegliato non ci vedevo più non vedevo quando il pennello toccava la tela o quando era ancora distante oppure se si piegava sulla tela perciò faceva una macchia non una pennellata non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è